Ma che cazzo ha dimenticato le rune? Ha dimenticato di cambiare rune, mi sa Può essere Ha misclicato, non è possibile Livello 38, oddio Aspetta, chi? Ah, Ari Livello 38, non te lo so dire, cioè Ari con 55% win rate su 70 partite, non penso da smart No, nemmeno io Dice great with Ari, high damage, aggressive laner, good CS Qua là, però Poi capire che sto giocando Lux, quindi Sarà alquanto difficile Tu porti l'irono ovunque va, effettivamente Clap A parte la prima partita che, vabbè, è un po' Giusto perché c'era quell'Eveline lì e c'era il gara incontro Cioè, le ultime due letteralmente Sembrava di essere contro gli iron Sì, hanno trollato Sembrava di essere contro gli iron Negli altri game Sì, fanno alquanto ridere, sì Molto Vabbè ragazzi, quando Quando fate schifo e vi fate boostare in platino Così che finisce Cioè, venite abusati, no? Quindi non vi fate boostare in platino Parole grosse Parole forti Parole decise Puoi dare un impatto Sennò Di essere di impatto a A questi ragazzi che guardano la live Sennò Va a finire alla fine Fanno una cosa sbagliata E poi se ne preventano Beh, capita pure me di trovarmi I normali gold a caso Mentre sono livello 36 Ma che vuol dire? I normali Normal non vuol dire Normal può Puoi trovare chiunque Puoi trovare un diamond Che fa duo con un livello 3 Normal non dovete prenderle Come punto di riferimento I ranked fa strano Allora Però i normal Non è normal Chiunque può giocare Così i gold Non possono giocare normal Guardate che normal Non esiste un elo Magari Non so se ti match In base alle win E le lose Quello non trovo No no All'MMR è un po' Conta Cioè nel senso che Se vai in pre-made Con tutti i gold Non trovi È raro che trovi Bronzi Silver Conto Cioè travi tutti quanti gold Anche lì C'è un pochino Di MMR C'è sta anche lì Però Sì Effettivamente puoi trovare Il gun master Che sta giocando Con la ragazza Che è bronzo In base anche ai livelli Degli account Dicono Sì Più o meno Non so io Non faccio normal Da una vita Perché per me Non ha senso farle Cioè al massimo Faccio un ranked Con un account intermedio Se devo Provare Sto qua sto giocando Lo smart Che poi vabbè Lo smart È in proprio Plat 3 Mentre me ne è Plat 1 Che schifo I poveri Ci sia troppo differenza Gagnoli Donate 2 euro Fieri Prova Sciacotolk Mezzo Tank Mezzo A virgola Per me funziona Virgola Mi saluti La signora Mara Grazie Gagnoli Buongiorno Signora Mara Non la conosco Ma mi hanno detto Tramite una azione Salutarla Quindi io Saluto Ciao Mara Ciao Mara Maravenier C'è nulla Ecco Oddio Ash No vabbè No Cosa ha fatto Gens Ha sparato Col cannone Contro i minion Non ci credo Come a misclick Oh Gesù Cosa ho visto Ma questo è l'iron Davvero Ma questo è l'iron Davvero Io ho flashato E detto Eh così muore Invece no Questo è l'iron Questo è l'iron Porca puttana Sì che li sento La differenza è qua Non ti scrivono Putt clown Close to me Non fo Quali tende Cazzo Ti scrivono Ti mandano direttamente Qualche malattia Ti augurano la morte No clown Eh raga Ha bustato sì Però Questo clap Gli riesci a darmi una mano Sì A livello sopra Vediamo Oh ha flashato Eccoci qua Eh mi servirebbe la mano Con questo tizio Vado già Ottimo Violented Sto arrivando Dai me la faccio Fai morta Fai morta Fai morta Dove una mano a pushare No invece no Nice Serve nemmeno Vado prendiamo una plate Bene Che jungler è qua Eeeh È scappato Ah siamo sotto il minuto 5 Niente Non la prendiamo No Che palle Ma lo giochi sciacola Non pane abbannato Eh sì È stata la saga Delle skill missate Comunque Abbiamo adeggiato Entrambi Clappe di Napoli Sì Sì Riga Sono de Napoli Tasi vostra Senti il mio Napoli Sì se lo sento Sento da qui Clappe Eh scusami Cioè Non è stata rischietta Ok no Perché stava dicendo Non è utile che parvi A nascondere Ormai ti abbiamo scoperto Fussati Fussati Fai yo Ma che cazzo Sei positive Stuc Adesso ho sti ping qua Dai faccio anche questo Oddo back Ecco qua Via Uff Issa mid Un po' sparita Ho dei cani in casa Ma che è Cani? Sì I cani? Au So de Napoli Clap 2019 Ho sentito Un waffamok Per questo Ah vedi L'hai baitato Clap Eh sì Si fanno Certe cose No Au So de Napoli Ebbè Perché c'ho le rune Vabbè Così avete visto le rune Nessuno me le chiede Cazzo Ok Next time Leona Next time Meglio al 6 Quindi Venissi bot In qualche modo Ma eh C'è il red Aiutami Aiutami Vai Quello che gli piace C'è Ari Mi guarda qui Ok Non ho lei Vai Posto Guarda subito il tuo Se no Do ruba Ecco No Eccolo 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 Bene Buono buono Ok Facciamoci questo Il mio Jax AP Portiamo pure in platino Ok Ok L'hai visto? Non c'è la morte Tutto il tuo guanito Però Oh Stong Eh sì Eh sì Eh sì Provo arrivare a pari d'altro In qualche modo Non prendo la chiamata Cazzo Non prendo la chiamata C'è c'era il flash Però non penso rimanga No Non ti conviene Purtroppo non ho danni Con sta build Ma che cavolo È la ulti di quella È la ulti di quell'altro Mamma mia Che è Mamma mia Te l'ho vista Poi in faccia Sì non ho fatto fa niente Ho il flash tra due secondi Manco potevo flashare Flash incoming E niente Stong Questa la ultuzza in faccia Quando la prendete in faccia È un po' brutto Però Ecco sta power farmando Ma se c'è un meno Minion di me Che sto anche gankando Ecco non sta C'è un cazzo Cosa fa Muore C'è una bella morte No Ma come sono morti Non c'è manco la ulti Leona Lei è la ulti Asce What? Che c'è una volta Valla a capire Non ho combinato questi Mannaggia 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 Chi so io Oh Eh sì E lo so molto bene Ok faccio questo Sto tornando qui Sì sì Potrebbe arrivare anche Ecco eh Ok Adesso do back Lo stuncada un po' Bravo ragazzo E' vero Entrambe le kill Che sono partite Dalla botta Entrambe le ulti Che sono partite Dalla botta Hanno fatto la kill Esatto Hanno fatto la di mid Una testa Uno per uno Non fa male a nessuno Per me è clafferone Cerco di ripare Morto morto Ha rigancato ecco E me ne arriva di nuovo la ulti Io purtroppo se Cioè Ari se ha la ulti Non posso farci niente Proprio è Not gestibile Questo L'altra contro Non sta dietro E basta Se no Vengo shottato E basta Da acri All'acri Oh Oh Tonk Oddio eh Beh dai so Vediamo che sono un po' Di abomini Questi qua Arriva il jack sapere Oh Un ht Guarda lì Don Mi sta Mi sta Arriva E' andato in base Bene Non ho la ultima Ottimo stop C'è da parte il leone Stato veramente clean Peccato solo per il nostro ADC E' andato in base Non ha capito Ok Ahia che la perone Il jack sapere Si fidda Sai cosa vuol dire Questo Eeeh Sono piselli amare Troppo per loro lo so Loro non saranno molto contenti Di questa cosa No no Non lo saranno I nostri c'è imbarazzante Vabbè dai C'è alla fine Stanno soltanto Cos'è Plat 3 E' plat 4 Una ulti a caso Varo lì Uuuuuh È una top Eeeh Niente Peccato Me ne sto un po' dietro Perché se no Vengo shottato Abbi pazienza Clap Deve fidarsi il jacks adesso In sta mid Eh infatti è qui Aiuto Clapperone Venga anche lei Può arrivare Eh si ma Ci sono Ci sono Mi shottano Si son morto Eh no Coglioni Ah Rip Comunque ecco Non un'ulta mai Io vedo sempre che c'è la cosa dietro Ma non un'ulta mai Solto non ha fatto in tempo Non si aspettava quel danno Per me No Se tiravo la W verso di te Vendevo poi gli assist Mannaggia Vabbè Ho preso l'assistolo su ecco Mi pare Sì Vabbè Vabbè dai Io intanto sto 4-0 8 stack di Axial Bano bano vabbè Ho preso pure le scarpe così Vado più fasto almeno quello Bot Niente Bot Stai intando proprio lì Professional interns Eh no Stai intando l'ADC Perché il sapere qui con me L'ADC è morto Vabbè Dusty Classico Poi sai con Tutti Le pick protection Che hanno Che ha con la botta A parte la ulti di Ashe Che è prevedibilissima Quando la sta per tirare Ok Mori Mannaggia Oh cacchio Ah No Dai Vabbè dai Meglio lei che altri Si è preso un botto di soldi Che è quest'aria qua Che mi sta arrivando addosso Jelly Da 24 gradi Oh Guarda qui Tutti qua stanno Hello guys 4 mid Ah vanno al drago Sì Un po' sì No Non ce lo stanno facendo Non so dove sono andati O ce sono dentro Dietro Può essere Eh no Sì sì Lo fanno E E Jinx Oh Muore Muore Ha dovuto smettere prima Eh Eh però sono un po' lontano Io Ma già l'ha fatto Eccolo lì Ok Vai Vabbè Allo Allo Penso vabbè I propri nostri DC Ah Risposizio Non so Eh raga Io Ci devo dire Ho Ultato Spero di sì Spero almeno L'abbia ultato Quello Prende la torre Sì sì Prato a prendere la torre Dai ma Leona non prende una ulti neanche per sbaglio Ma che è Ma è ovvio che Cioè è ovvio che Yumi è la seconda volta che ulta Yumi E Yumi ovviamente se tenete Cioè entra dentro Ash Arrivo Ah Sono qui Sono qui Troppo Socialistan Va bene Buono Bene Beh oh Tutti belli Infatti sì Li miniamo sì Oddio No Sono anche saltato sopra Ecco sotto la La cosa Soccoso Sono morto Beh Mi è arrivato All'ultimo Info di Ash In faccia Purtroppo Stava lì Mi serve un po' di stack di magiai qua altrimenti Vabbè farm Farma Take take Non devo farmare nemici Adesso li farm Siamo eh Sarebbe quello lì da prendere Che non farebbe per niente male Sì Beh ci manca Poi la Toribot ci manca In ogni caso Poi ci stiamo Grazie quello che gioca a DC Degli otto mesi Bentornato caronella Felix Armi Il signor Ricky Sao c'era invece nove mesi Bentornato anche te Grazie del sub E Wanzo Grazie del sub Regalato alla community Di mister la Fieric Adesso prendiamo Sta troia Ok Ecco pure Come ne va Che cosa fa raga Ma what Come tu No aspetta Aspetta Come cazzo sono morto Che combina Mi hanno derivato qua Mi hanno derivato Vabbè Comunque non so come ho fatto a morire Nostamente Death of the cap 939 danni di ecco Ma ok Un po' strano però Comunque ecco ho usato la ulti E anche ari Ari ulti E pure smaitato ecco Però non so l'altro Ce l'ha già l'altro Mi stanno proprio a buttare Cioè mi stanno arrivando sotto qua Ero full life Quindi Quanto particolare Questa cosa Vabbè non sei troppo indietro No no Per carità Quasi proprio Adelaia sarebbe morto Ecco perché l'ho preso Di fu Quindi Non poteva fare più di tanto Però Troppo Ho fatto quello E' bastato Non so com'è Come sia possibile E' bastato Non mi piace tantissimo Con Jax avere l'erl Perché non posso fare il world jump Però vabbè dai Ancora Ancora Che si vede che è bravino Poi vabbè contro Riven Renex è sempre stato PL Ecco Da sempre C'è il reddito Cittadinanza Oddio Oddio il reddito Oddio il reddito Richie Saucer GFT Da tier Uno su tu S Grazie Che saucer Meno male C'è qualche rete di cittadinanza Che passa I qua Se no i poveri Come li Come li alimentiamo Sti poveri qua Gli alimentiamo Gli alimentiamo Sì Alimentiamo i poveri Come Richie Saucer GFT Da tier Uno su Delle lampadine Arrivo Se la neve viene sotto casa vostra C'è l'inferno Dobbiamo farcela C'è l'inferno Sottolineato Di R4G0N Sottolineato 245 Eh no Eh no Eh no Ma ti hanno abbandonato Addio Clap Ciao Vabbè Ma era morta quella Questo è il bello Non so Io purtroppo Non c'è Salter GFT Da tier Azzia XM4 Da Baffa Da Rimannaggio Dottima idea Oh Dottima idea Allora Darkness Maio Azzia Da tier Uno su Tua Ptn O 1990 Affetto Qualche gold In base Ne sa Non stiamo Vendo Questo Io so Sto Held Però Non posso Piazzarlo Da nessuna parte Adesso Fra tre mesi Si scomperà Fra tre mesi Quasi Sto intando Io Mannaggia Eh sì Clap Non stiamo Intando Mi fa tentare Così Però Stardo Mi fa Non fa Questi Ma c'hanno Solo degli Stun Questi Non è possibile No Ho sbagliato Scarpe Direi Enemy double Kill Direi che Siamo morti Tutti Siamo morti Scarpe Magic penne È stata la scelta Sbagliata Ari 7-4 Maledizione Allora Pure ecco Se è bello Intato Prendiamo Queste Il difusatore Top Almeno Il bot Casca Non riesco a capire Purtroppo La nostra bot Sta veramente In svantaggio Anche se non Sembra Invece Tamp No no Ma che Voglia Si però Vedi Più che altro C'ha 11 Assist Però Cazzo Si fanno Sentire Che tra le Qui così Questo lo metterei Qui Trinchettino L'ho piazzato Riva miss Che ne red No By yes Tanto qua C'è l'era Nessuno Nessuno Ma accompagnerà Ovviamente Ah si L'eraldo Tra cui tu Tra cui tu Qui Eh Eh C'abbiamo l'era Ah guarda C'è Ecco lì Stanno tutti quanti là Vai vai Però mi sai Che vanno a fare il baron Questi Vediamo se Basta una guarda Eh io già l'ho messo C'è un trinchettino Ah apposta Oh Hanno guardato qui qualcuno Riven Viscio Dunque poi nemici C'è che sono molto sveglie Potevano ammazzarli Tre quarti d'ora prima Sto Aaron Sì Vabbè Hai tirato una capocciata Cioè E come l'ho piazzato Un miracolo Che si sia arrivato Fino lì E no Nekton E no Oh No cosa buona Oh Che cazzo di danno è questo Beh vabbè Stavo tutti di cosa pure Ma mi ha fatto metà vita quella Vabbè Flash Mi dispiace Eeeh Mi dispiace Riven Anche a me Dispiace molto Flapperone Poi è andata così Ciao Ricky Saus Vabbè Lo so che abbiamo perso il match Abbiamo perso la quadra kill di prima Sinceramente Eh sì Mi sa di sì Oddio io posso comunque un po' fare roba E gli altri? Io sono Jack's AP Ero in stravantaggio Adesso non posso più far nulla Perché sono tutti fidati Se in promo è ovvio avere i babbuini in team Non ce l'ho pensato Vero Questa è una cosa Non è Non darsi troppo scontata Assolutamente Vero Non è per una scusa Eh no Bella Uzi Grazie di cheers Bello Grazie mille carissimo Uff Il problema qua La principale è la quantità di cc Che a sta gente Oh l'unica volta che ho ingaggiato Ash Che era da sola Io però è buono Guarda che Cioè a me Ti dico solamente che questo qua C'ha 25 stack di magiai Ma con una kum Ho fatto metà vita Metà vita Metà Cioè quella è tossica Io sono riuscito a fare leona con 25 stack di magiai Faceva male pure a leona con 25 stack di magiai Eh appunto appunto Metà vita mi ha fatto Quindi Un po' complicata la selezione Dal punto di vista L'unico aborto nel loro team È Riven C'è l'arri qua Riven è bella 8-4 Bella pesante Qui guardato Ok va bene Ok Hanno tirato due ulti Cosa han fatto Sono matti Dobbiamo andarci adesso Mai più Tip Non posso fare niente Però buono Vai buono Buono così Ottimo Beh Le ulti che hanno cacciato Sono state worth Ho preso di me Quindi Vabbè È che non ho preso la Q Mannaggia Però di nuovo la zone adesso Oh Dong Leona tanka tutto Ah Bella sta ulti Nell'utilizzare le ulti Sono veramente skillati Sti ragazzi Il Reneco Non è andato top Io mi sono fatto 700 gold con Ari Sono molto felice di questa cosa Vai 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 Buonissimo Vado a rompere mid con la ulti C'è arrivo Ma mi sa che non c'è arrivo Da qua No Tengo per la wave Che arriva dopo Bravo Renekton Concentration Clapperation Vabbè Vai Con un po' di cooldown Ma Niente di che Pam 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 Spendo il 16 La mia ulti di cooldown Non ce l'ha più Apparisce Buongiorno la signora Sotto zero A me spiagge Noi abbiamo preso il numero Dall'avento Ho preso pure la gomma lamenta E' finita per loro Stare qui c'è un sacco di HP Comunque Stato questo Sto un po' sciotta Sto un po' sciotta Grazie Grazie Ricky Saucer Minchia Ricky Saucer Ci avviciniamo alla terza cifra qua Se la neve viene sotto casa nostra Baffa il culo la neve Non può piacervi Dà soltanto fastidio Ma meno mai che ci sono dei non poveri come lui Fra tre mesi si sgomberà Basta Vai a fare il rom da qualche altra parte Oh Ah no No Renekton No Renekton Stanno startando No Renekton Eh stanno startando il culo di Renekton adesso Adesso lo starto Beh ovviamente Hanno visiono punto Oh Eh c'è un po' dentro Ascia Cazzo Eh Merda Non ho vision da mettere lì dentro Sennò darei un po' di Aiuto Sai che mi sta inseguendo Riven Non capisco Andiamo via da qui C'ho il world jump Già pronto io Ah bella Dov'ai No Minchia leona Mai che non ho preso lei Sta leona comunque fuori Sì è un po' fuori di testa Però si Vai Prova a fare il rabbo Adesso Ti dovrei avere danni Broom Concentration Sì Vedo che La ultima c'ha 33 secondi di cooldown Se arrivo Al 16 Mi pare che scende anche a Sotto i 20 Se non sbaglio Quindi Tempo di arrivarci Direi Io ho dei bei danni Devo dire Veramente Veramente belli Ho dei bei danni Eh sì 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 Dai ci sta Sennatamente sì Storto Ok Con 15 Buono Serverebbero più finché tre osse Io non posso perché Warjumpari Io avrei ultato Classico Non sbaglia mai le ulti leona Non capisco C'è perché in Italia C'è un cooldown esistente Eh però Eh beh ma comunque ce l'ha C'è sta già un quarto ma Saranno 40 secondi Cosa del genere C'è l'inferno Tipo stiamo stallando abbastanza bene Finché non abbiamo Roba Una Jinx Oddio Oddio Che altro è Ok Ho letto il tizio lì Non le ho le tende Non ho fuoco alle tende Cazzo Continua a spammare così Ma che succede Spendo un po' Ripendo un po' Ah no Dai un abbiato Attenzione Attenzione Non c'è spazio per i campi rom Guarda come zona Guarda come zona Guarda che zoning Eh raga c'è un problema Vai Ah 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 hai visto tutto ma sarà forse che è il momento di prenderla boh con qui 18 stack di magia e a piano piano ma è il mio mai già sapi quello ma questo scopo davvero lui non è lui sa il jack sapi vince perché non qui club sai io lo sapevo che andava a finire così io me l'aspettavo bella ghille ben tornato a ferix army bello grazie mille del quinto mese a posto easy ma non giocavo looks da una marea di tempo il tastino reconnect faccio qualcosa di sbagliato pure a me no no pure a me pure a me lo fa di aspetta un po di tempo invece l'ho cliccato a me frega un cazzo cliccato c'è il pesante che fai lo premio non lo premi io lo prego cliccato e fai morte istantanea invece che facevi ecco intanto io ce l'ho fatta e io sono già qui anch'io e io anche sono lato ti è grazie dico dei cheers partite oneste 0 6 leona ora lì è stato very good eh sì e io clappone di saccardo a far l'ultimo game l'ultimo game